Nella giornata di ieri il compartimento polizia ferroviaria di Ancona nell'ambito del piano nazionale per il contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario ha pianificato mirati servizi nel territorio delle tre regioni di competenza Marche, Umbria ed Abruzzo. L'attività si è svolta sia in ambito ferroviario che presso i numerosi siti di autodemolizione e diposito Rottami dove a volte è stata riscontrata la presenza di rame rubato di genere utilizzato per le infrastrutture elettriche delle ferrovie. Oltre al danno economico rappresentato dal materiale pregiato sottratto, il furto provoca tutta una serie di ulteriori problematiche legate alla circolazione del traffico ferroviario che inevitabilmente subisce pesanti interruzioni e ritardi in attesa che venga naturalmente ripristinata la struttura danneggiata. I controlli hanno visto impegnati circa 37 operatori che hanno pattugliato decine e decine di chilometri di linea ferroviaria in tutte e tre le regioni, controllato 70 persone e oltre 30 depositi di Rottami alla ricerca di materiale rubato.